Nel pomeriggio di venerdì 5 aprile Papa Francesco è uscito dal Vaticano per riprendere le visite nelle parrocchie della sua diocesi e per incontrare il clero. In particolare si è recato presso la chiesa di Sant'Enrico a Casal Monastero, nella zona nord-est della capitale. Ad accoglierlo il vescovo ausiliare Daniele Salera e Don Massimiliano Memma, che da 12 anni guida questa comunità formata da circa 10.000 fedeli. A seguire, nel teatro parrocchiale, l'incontro con 35 sacerdoti e diaconi dell'undicesima prefettura del settore nord. Come nelle precedenti occasioni, il Papa si è intrattenuto con loro per un colloquio a porte chiuse che è durato all'incirca un'ora e mezza. Diversi temi affrontati, come i giovani, il giubileo e la vicinanza a chi è lontano dalla chiesa. All'appuntamento erano presenti anche alcuni cappellani di Re Bibbia, con i quali si è parlato della questione delle carceri. Al termine, la consegna di un dono, un'icona della Salus Populi Romani, dipinta da un sacerdote artista. Prima di fare rientro in Vaticano, il Papa si è soffermato a salutare la folla di fedeli radunata all'esterno della chiesa, un'occasione di ascolto e di vicinanza segnata anche da un autografo sul gesso di un bambino con il braccio rotto.